Abbiamo ripreso in mano questo progetto di parcheggi perché secondo noi il progetto di parcheggi non è che un servizio alle attività economiche, ma in realtà anche determinate aree. Quando guardiamo le città limitrofe non ci scandalizziamo minimamente di quello che sta succedendo, che è successo, tipo Pesaro, Senegallia e quant'altro. Secondo noi era possibile e probabile effettuare un ragionamento su determinate aree che sono a servizio delle attività turistiche e quello faremo. A partire dal mese di giugno fino a metà settembre altri stalli per le auto nella città di Fano diventeranno a pagamento. Un'operazione che Aset, su volontà del Comune, metterà in atto durante la prossima stagione estiva. Sono più di 300 i parcheggi totali che da bianchi cambieranno in blu nelle zone di Sassonia e Lido, ovvero da Viale Adriatico fino al Porto, quelli a fianco al Laboratorio di Biologia Marina e quelli davanti al noto self-service fanese per quanto riguarda la parte di Sassonia, mentre per il Lido, Piazzale Amendola, la tratta di Via Spontini e Viale Cairoli. Naturalmente ci sarà una nuova regolamentazione dei posti, perché abbiamo notato che c'è anche un po' di confusione nell'utilizzo di alcune aree, quindi si tenda di razionalizzarli e di rimettere in sesto in pratica queste aree dedicate. Con questa soluzione si offrirebbe più ricircolo dei parcheggi, ha commentato il presidente di Aset Paolo Reginelli. Per quanto riguarda il costo del ticket, ancora non è stato ufficializzato un tariffario, mentre gli orari saranno sempre gli stessi. No, non abbiamo ancora pensato alle cifre, perché penso che saranno comunque allineate a quelle del resto della città senza nessun genere di aumenti o quant'altro. Io penso che la cosa più importante oggi per i cittadini è non farli perdere tempo. Di cosa parliamo? Parliamo di un contesto comunque vacanziero legato a delle situazioni che intanto permettono delle vaste aree dove il parcheggio è gratuito. Quindi, che ne so, tipo l'area dello sport park oppure tutta quella limitrofa alla stazione ferroviaria. Quindi, se si vuole fare la sana passeggiata non c'è nessun problema, ok? Se si vuole la certezza di avere un posto vicino magari al locale nel quale si vuole passare la serata o per determinate necessità si ha bisogno di sostare per tempi limitati, penso che in un contesto del genere non ci sia nulla di opprimente né di punitivo nei confronti dei cittadini se per andare a cena invece che spendere, che ne so, 30 euro a testa ne spendono 31 in tre.